risalendo la val germanasca da pomaretto abbiamo incontrato scopriminiera le seggiovie di prali la nuova 13 laghi e agape con loro abbiamo tracciato un bilancio della stagione estiva appena conclusa con le sue molteplici criticità e abbiamo cercato di capire come si presenta l'inverno e la stagione futura queste tre realtà sono vive e arricchiscono un territorio che ha subito un forte spopolamento e che oggi cerca di reinventarsi sfruttando in modo sostenibile ciò che c'è scopriminiera ha aperto l'anno scorso un nuovo percorso scoprialpi geologicamente molto interessante e nonostante tutto ha chiuso sui livelli dell'anno scorso a livello di visitatori luca genre ci ha accolto in uno degli spazi di attività riservati ai gruppi e alle scuole e con lui abbiamo fatto il punto come è andata la stagione estiva è andata bene anzi molto bene la fase la fase primaverile facendo un passo un passo indietro perché il periodo dall'apertura che per noi classica è primo di marzo ad andare a giugno abbiamo avuto addirittura un incremento di visitatori rispetto agli anni scorsi la fase estiva invece come come credo che poi che poi sia per tutta la parte per tutta la parte alpina nostra non dico disastrosa ma ma con numeri decisamente inferiori al allo standard abbiamo avuto comunque un numero significativamente più basso di quelli che sono il nostro zoccolo duro estivo che sostituisce le scuole e che la parte di gruppi di animazione estiva e poi sicuramente la parte di meteo di meteo estivo la risultanza finale adesso siamo a 20 giorni dalla dalla chiusura quindi la proiezione è più o meno è più o meno definitiva e di arrivare a un risultato finale con all'incirca i visitatori dell'anno scorso quali richieste particolari ricevete dai gruppi la mezza giornata vedo che vengo da voi ok si può pranzare qui piuttosto che ho visto che avete l'elenco di tutti i ristoratori del territorio della valle ma visto che vedo che avete questo cappello da ecomuseo dove mi mandate oggi pomeriggio avete la possibilità di farmi vedere anche un altro museo dove si può andare a camminare per fare l'altra mezza giornata non dico che siamo un un secondo ufficio turistico vicino a quello di prali ma è un po quello il lavoro il lavoro che che facciamo sul pubblico straniero che tipo di progetti avete visto che ha molto anche di audio molto di video molto di interattivo abbiamo bisogno di fare tutta la parte di interfaccia per per gli stranieri per permettere di utilizzarlo per loro anche perché abbiamo visto che gli stranieri sono molto interessati a questa parte naturalistica e scientifica parliamo di sweet mountain questo progetto che è partito con con la presentazione al salone del gusto dello dello sweet mountain coordinato da dall'associazione dislivelli credo che possa essere un'altra occasione soprattutto di nuovo per lavorare per e con gli stranieri per fare rete noi qui sul territorio perché siamo obbligati a lavorare insieme dal da questo progetto a forza di parlarne ogni tanto poi arriva qualcuno che ti che ti costringe a farlo però credo che come come chiave possa essere possa essere buona dalla zona delle miniere di talco risaliamo la valle fino a ghigo di prali dove ad aspettarci vicino al pillone di partenza della seggio via c'è fausto san martino direttore della nuova 13 laghi la società che gestisce gli impianti di risalita prali apre il prossimo fine settimana viste le nevicate la parte alta sì sì per la parte bassa attualmente non è ancora nevata ancora non c'è nulla e attualmente non riusciamo ancora a usare nemmeno un impianto di nevimento artificiale perché non non ci sono ancora le temperature stagione estiva poco positiva alla stagione estiva diciamo che abbiamo chiuso con un meno 30 per cento rispetto all'anno scorso rispetto al mese di luglio che era iniziato veramente in maniera tragica perché avevamo comunque abbiamo avuto tutti i weekend brutti con brutto tempo con pioggia alla fine della stagione estiva il bilancio si è chiuso con meno 30 settembre è stato buono abbiamo avuto tutti i weekend di settembre belli rispetto agli altri anni c'è stato un buon incremento dovuto anche alla voglia di uscire perché comunque la gente non ha avuto l'estate c'è quindi una crisi nella passione per la montagna non c'è più la passione per la montagna quella si sta perdendo purtroppo è un discorso lungo un discorso più ampio che secondo me deve partire dalle scuole deve partire a livello istituzionale in quanto si è persa l'amore per la montagna sui giovani che praticano l'escursionismo c'è veramente un calo che tipo di clienti avete ma allora d'inverno abbiamo abbiamo due fasce abbiamo la fascia della famiglia e abbiamo la fascia del giovane rivolta al freeride ha preso piede a prali in quanto abbiamo dei bei fori pista abbiamo un ottimo dislivello che sopra i mille metri e la fortuna di avere gli ultimi anni con con molta neve ha portato prali veramente a essere nei primi posti in italia diciamo soddisfazione l'abbiamo presa adesso allo ski pass di modena dove su una classifica di nove stazioni italiane siamo arrivati terzi durante l'estate il cliente della stagione estiva e famiglie fino ai 15 18 anni e giovani che praticano il downhill avete in cantiere qualche novità abbiamo niente abbiamo solamente novità di di manutenzioni ordinarie o straordinarie dovute alla legge forse per la prossima stagione invernale quella 2015 2016 di avere delle nuove varianti sulle piste alcune varianti abbiamo previsione di ampliare quest'anno lo snow park in quota di quindi di dare una opportunità in più ai giovani dal piazzale delle seggiovie una strada si inerpica sul costone fino ad arrivare ad agape il centro ecumenico dove si svolgono molti campi indirizzati soprattutto verso i giovani demetrio canale vice direttore della struttura ci accoglie nel suo ufficio come sono andati i campi estivi d'autunnali abbiamo festeggiato due ricorrenze sono i 35 anni del campo gay e il quarantesimo compleanno del campo politico donne il campo che negli anni settanta era conosciuto come campo femminista donne gli altri campi sono andati tutti abbastanza bene c'è sempre una buona partecipazione anche soprattutto internazionale a quelli che sono i tre campi internazionali il campo politico il campo etiologico e quello che è un nuovo campo uno dei più giovani che è il campo campo lavoro purtroppo come molte di noi sanno molti di noi sanno con l'assenza di caterina vista la sua malattia da questo punto di vista ci sono notizie abbastanza rassicuranti si sente la crisi anche qui al centro abbiamo sentito la crisi soprattutto dal lato scuole i vari cambi di politiche ministeriali non aiutano sicuramente abbiamo già prenotazioni di famiglie che vogliono venire a fare un fine settimana bianco il rapporto fra prali e agape sta funzionando si funziona e per fare un per usare una figura che è un po abusato un po un cliché è un matrimonio che nonostante litigi nonostante momenti di difficoltà continua a funzionare agape è sempre ben accolto da prali magari non in un modo pieno di affetto subito abbraccio che cos'è via ma c'è speriamo e stiamo lavorando con una serie di programmi per quello che il piccolo contributo che può dare agape rispetto al turismo aprali per chiudere come si prospetta questo nuovo anno ecclesiasticamente parlando nella figura della direttora della direzione in quest'anno e lo consideriamo un anno un poco conservatore manteniamo quello che abbiamo non rifiutiamo mai le novità agape anzi spesso è portatrice di novità e questo è importante quest'anno forse un pochino più rispetto ai alle grandi novità le grandi idee di agape sarà un anno un pochino sottotoro secondo me questo non vuol dire una diminuzione delle presenze sia di privati gentili come piaceva chiamarle a me sia nei campi ci sono buone prospettive una valle che nonostante le difficoltà tra cui anche la viabilità ancora precaria si rimbocca le maniche e affronta questa situazione di crisi generalizzata cercando di offrire qualcosa di diverso